In Toscana ci sono 1.200.000 ettari di boschi che occupano la metà della superficie regionale. Il 10% di questo patrimonio appartiene alla Regione, che ha appena stanziato 500.000 euro destinati a finanziare direttamente i costi aggiuntivi del contratto integrativo applicato a 400 operai forestali nel 2019. Su delega della Regione, gli operai forestali lavorano per i comuni o le unioni dei comuni, provvedendo alla sistemazione idraulico-forestale e agraria e svolgendo un ruolo decisivo nello spengimento degli incendi e nelle successive operazioni di bonifica. Gli operai forestali sono per la Regione Toscana un esempio di passione, di professionalità, di come queste persone riescono a gestire gli interventi sul territorio. Se si pensa che erano 8-9 anni e che non veniva fatto rinnovo, credo che farlo e farlo in tempi così rapidi sia un elemento sicuramente positivo. I fondi stanziati dalla Regione saranno liquidati in due tranche entro il 31 dicembre di quest'anno. Gli stanziamenti per gli anni successivi saranno inseriti nella prossima finanziaria. È stata anche una trattativa onesta con i sindacati. Partivamo da posizioni diverse, ma ci siamo riconosciuti come interlocutori credibili e questo ci ha permesso di portare un risultato che, bene o male, anche sui territori è stato apprezzato da tutti. Io credo si debba continuare a lavorare così. Grazie. Grazie. Grazie.